Benvenuti nello speciale 500.000 iscritti Abbiamo preparato per davvero una mod su di noi E non vediamo l'ora di farvela vedere Siamo un po' emozionati perché è una roba a cui stavamo lavorando da un sacco di tempo Quindi siamo super mega in ansia Perché è la prima volta che abbiamo qualcosa fatto su di noi dentro un videogioco Ma non vediamo l'ora di provare la mod e di farvela vedere in tutto e per tutto E ragazzi, come va? Io sono Ferini E io sono Stef, che si giochiamo a Minecraft E benvenuti nell'episodio più bello di sempre di Minecraft Perché sì, esiste la mod dei two player su un console Io non so niente, ci tengo a dirlo Perché è una cosa che ha voluto fare Stef Quindi ho seguito un pochettino le fasi di sviluppo Ma non ho voluto spoiler Perché sinceramente voglio che oggi sia una grande sorpresa anche per me Esattamente, in pratica ho contattato una persona che ci ha sviluppato la mod L'ho completamente ideata io a livello di effetti Di cosa fanno gli oggetti, di quali sono gli oggetti e così via E questo giro scoprirete sia voi che Fere Non vedo l'ora di presentarvi tutto quello che c'è dentro Ci saranno degli oggetti che ci porteremo anche in altri video Perché sono troppo belli per mostrarli e usarli solo una volta Quindi preparatevi Perché sarà una mod che rivoluzionerà almeno un pochettino il canale Allora Fere, iniziamo, iniziamo, iniziamo Allora aspetta, voglio stare comoda Qui vicino al falò Stef Ok Beh, secondo me io partirei un po' dalla cosa più importante Ok Ok, cioè secondo me va fatto così Lo so che è solito la cosa più importante alla fine Ma secondo me in questo caso metterla alla fine sarebbe brutto Quindi dobbiamo metterla all'inizio E direi che i consolini in questo momento Avranno capito di che cosa si tratta Allora, ovviamente ne metteremo prima uno e poi l'altro Da chi partiamo Fere? Allora, vedo delle uova E so già più o meno Più o meno cosa sarà Perché Non ci vuole un genio Ripeto, avendo seguito un pochettino lo sviluppo Bene o male so di cosa si possa trattare Dai, partiamo dal tuo Vai Sei pronta? Sì Vado Vai Ma è bellissimo Guarda il cappello Stef Guarda il cappello Lo vedo il cappello Fere Stretto in mezzo alle orecchie Oh mio Dio Allora Ovviamente Ciao signor maialino Lasciamola un po' impazzire Ovviamente È torriato Signor maialino non può essere semplicemente un pipistrello maiale che va in giro E che isolazze e basta E già è strano che sia un pipistrello maiale E già è strano Però Oh, stai calmo eh Non torni a andare Fai da bravo Calma ti non volare via Però Siamo finalmente insieme anche su Minecraft Mi sa che ti sta un po' lasciando Forse è offeso che l'hai abbandonato per troppo tempo Fere Sì anche secondo me Devi sapere Che per adomesticarlo e farlo tuo per quello in questo momento se ne va Ovviamente lui accetta soltanto una cosa Ma ovviamente È ovvio lo sappiamo tutti Perché signor maialino lo sanno tutti che piacciono i soldi Lui è ricco Però non si stanca mai dei soldi Vieni qua Fermo Stef è un po' indomabile te lo dico Vai Inizia a far tasto destro Così inizia a essere felice E piano piano L'ho premuto L'ho premuto e non riesco a chiamare Fere se con te ne vuole solo uno di diamante Ma per favore Sei matta e per favore Dai cavolo sei perfetto Dov'è? Mi sta giocando? Mi sta facendo i giochi Per non farmi capire dove va Ok Best friend forever Calma Ok adesso Premi shift più tasto destro Ok Aspetta aspetta vieni qua Continua a scapparle Ok Fere Aspetta aspetta Dov'è l'F5? Questo è il giorno più bello della mia vita Sto per mettermi a piangere sto per commuovermi per questo momento Però Non siamo bellissimi Non siamo bellissimi Stef Quindi tu praticamente potrai andare in giro con signor maielino in spalla Devi sapere che signor maielino però Non ha ancora finito di avere delle cose interessanti Ok Quindi adesso ti mostrerò cosa è in grado di fare quando viene addomesticato Ok Sei pronta? Stai un pochettino distante? Lo posso liberare? No no devi tenere nella spalla Lo tengo così ok Ok Capisci? Oh mio dio Metti la terra Così lo vedi meglio all'opera Oh mio dio Guardalo Prende e spara E questa qui è magia nera Perché sappiamo che signor maialino È molto oscuro È molto oscuro Oh mio dio è fortissimo E ti difenderà dei mostri È fortissimo in tutti i sensi Nel senso che è forte Ma è pure figo Sei un figo Con quel cappello sei un figo Sì perché sappiamo tutti che comunque Signor maialino è ricco Vive in un castello Fa cose un po' strane di cui nessuno sa Il motivo e così via Quindi Bravo che sei Sei diventato perfetto Quindi lo potrei avere sia nella spalla Sia in giro E ti aiuterà a combattere Oltre al fatto che Uccidi Steph Dai uccidi che Steph No No non funziona così No Allora Allora Lo riprendo Può scappare Vieni qua Vai Siamo amici per sempre Vai Allora È il momento Di Steph Ok Quindi Capitan Jeff Guarda qua Lo dico Lo dico È troppo bellino Ma il cappellino Ciao Che bellino che sei Allora Devi sapere Che tu odierai No Steph aspetta Sì dimmi Alla benda pirata Certo Fere È fantastico Secondo te Alla benda pirata Cioè non ce l'hai tu Ce l'ha lui Ma dimmi te Sai come si è domestica Come? Con le mele Ok Perché ai papagalli piacciono le mele Lo sanno tutti Certo certo Lo sanno tutti Ok Adesso Ovviamente È spettacolare Lo so Lo so Ti viene da piangere Vedendo te le spalla Steph Ti viene da piangere A me sì Tu non conosci l'effetto Di Capitan Jeff Sono troppo emozionata Ok vai Allora Mi vuoi far diventare gelosa adesso? Sì 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 Capitan Jeff È il momento di scendere Poi devo usare Questo oggetto E mettere Non guardare Non guardare Non guardare Ok Pensavo dovessi guardare Quindi mi sono girato un attimo Aspetta Ci vuole un pochettino Perché altrimenti Sei lento Sì abbiamo capito Dai non ti preoccupare Steph Va tutto bene Credo che me la bene così Ok Perfetto 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 Adesso Io me la tengo in spalla E possiamo continuare a vedere gli altri mod No aspetta Cosa hai fatto? Sta parlando Tranquilla Tranquilla Continuiamo Dai Fede Cosa c'è di strano? E poi si ripete giustamente Perché un po' ha pagato Tranquilla Non è ancora arrivato tutto Sotto quel punto di vista Non è ancora arrivato tutto Allora Quindi abbiamo Capitan Jeff Che più o meno hai capito cosa fa Ma ancora non sai Ok Ripete sempre la stessa frase No non proprio Non proprio Puoi stare tranquilla Vedrai piano piano Mentre vediamo altri oggetti E tu vedrai l'effetto totale Va bene Adesso È il momento Di mostrarti Non so quale sarà il tuo oggetto preferito Fede Cioè l'ha detta così Poi ha ripetuto Steffi Ah ecco Stai esagerando Smetti Non male che ridi Amo Capitan Jeff Amo Capitan Jeff Vai ripetilo Ok dicevo Questo oggetto Non lo adorerai Quanto signor Maialino Ma ci andiamo vicini Ok Pronta Vado Guardala bene Ah c'è la mia faccia Sulla spazia Ed è rosa Rosa è fucsia Quindi cosa si può valere di più Di una spada gigante rosa Con la mia faccia sopra Dammela Steff Dammela Steff Allora Dammela Steff Allora Dammela Steff Ascoltami Ok Tienila È un po' troppo potente Ok Ok Quindi Usala Cautela Con cautela Fammi vedere La spada di Fere C'è proprio il mio nome Vado Fantastico Vai Ok Aspetta Fere È perché c'è il signor Maialino Che picchia Che faccio Vai a chiuderlo in una casa Ma no povero Beh lo metti a dormire Ci sta Ci sta Lui mi vuole solo difendere Lo so Ma con quella spada Non hai bisogno di niente Di nessuno Pronta Pronta Ok Capisci Sì Hai già capito Fa un'esplosione Vai Allora Qualunque mob Viene Istantaneamente Distrutto Dalla tua spada Non esiste Nessun mostro Che non possa morire Con un solo colpo Ma davvero E allo stesso tempo Fa esplodere Da quanto è potente Oh mio dio Adesso io ti faccio vedere Dimmi che non è la spada Perfetta per me Allora Devi essere vero Del colpo Perché altrimenti Siamo nei guai Pronta Ok Che cavolo era Uno zombie Ah sì Ma perché ci sono zombie Vieni via Vieni via Non capisco Voglio vedere di combattere quelli Ti volevo far vedere Qualcos'altro Allora ho anche poca vita Quindi bisogna fare attenzione Perché l'esplosione Mi fa male Vai Dagli il colpo Visto Sì Visto Anzi Non fa neanche tempo A vederlo Perché lo vedi ed è morto Comunque Tu cosa hai detto L'esplosione mi fa male Sì Mi fa male Questo perché non indossi L'armatura a fere Tieni Indossa Indossa Tranquilla Non fare complimenti Oh mio dio Che poi La testa è la mia testa Quindi divento io più grossa Guardami Sì Sei gigante Esattamente Sei ciccionissima Sono bellissima Allora Ti voglio far vedere Che cosa fa Vediamo un po' di cibo Per favore Lo so che ti devo interrompere Però sto morendo di fame Tranquilla Non c'è problema Vai Vai Ok 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 Non prendo danno nella lava Quello che sto notando Vieni Vieni Ok Guarda Sai perché? Perché? Perché ti rende Invincibile Non puoi prendere danni Da te stessa Non puoi prendere danno Lanciandoti Non puoi prendere danni Dalla lava Non esiste più nulla Fere Finalmente posso notare Nella lava Stef Che è uno dei miei elementi preferiti Cioè guardami Io sto qua Ad abbronzarmi Con questo calduccio E non mi fa niente È il momento di curarti I mob non mi attaccano Stef sono una potenza È il momento di essere curata Guardate quanto è bella la mia spada Oh mio dio Quanto sono figo Guardati anche tu La tua faccia Quanti cuori hai Fere Dillo a tutti Due e mezzo Ho i cuori pieni adesso Mi curi di mezzo cuore Per volta Cioè per la precisione La mia spada Non fa danno Cioè Se io metto lui Guarda Lo curi Sì Ma come Non fa Perché lo sanno tutti Che come combattente Non sono bravo Quindi la mia spada Cura qualsiasi cosa Anche i nemici Però Però ho una soluzione Quando ci sono questi problemi Cioè se tipo Io sto cercando di sconfiggere Un nemico Ma non gli faccio danno Poi posso fare questo Come hai fatto Praticamente Ho dei razzi Incorporati Alla spada E quindi posso volare Vedi Ok ok cadi di sotto Porca miseria Fere Ok tutto a posto Ho detto che cadi di sotto Tutto a posto Sto bene Quindi questa qua è la mia spada Ok È molto bella Io l'adoro tantissimo Ma anche io altre cose Allora Sì Che fa allora No la tua spada no Ah solo quello Perché tu vedi i razzi I razzi sono belli Però Steph Volevo anch'io Perché non mi hai messo i razzi Perché non mi hai messo i razzi Stai tranquillo Ok Sono indeciso La mia armatura La mia armatura me la tengo Sinceramente Me la tengo perché mi piace molto Scommetti che toglierai un pezzo Già dal nome Allora E finalmente qualcosa che riconosce la mia magnificenza Steph Finalmente è arrivato il giorno in cui qualcuno mi fa una corona Oltretutto è bellissima È molto bella esteticamente Consolini abbassate il volume del video Fai il tasto destro No Vado Vai Che succede Steph ho paura Vai Continua a fare il tasto destro Ma sono tutti piccolini con la testa gigante Ma io come faccio Steph Ma come Guarda i lama Guarda i lama piccolini Gli alpacanti Chiamiamoli alpacanti Guardali Guardali E le mini mucche E i mini maialini E le mini sheep Ma dai Steph E poi guarda Il pollo Guarda che carino il pollo Allora Vieni un attimo Allontanati Ti ho spostato qui perché altrimenti fai troppi danni Allora quindi Vado Vai Io mi sposto Oh mio dio Che è successo Steph Ho creato una voragine di dimensioni Allucinanti Cioè non avevo neanche la mia armatura Quindi ovviamente ci sono pure crepate Che cosa Steph È tutto Allontanati Ah ma le vedi proprio arrivare Sono delle bombe che cadono dal cielo Esatto E che fanno pure bruciare tutto Cara mia No ma hanno fatto malissimo Anche se avevo la mia armatura Probabilmente fanno oltre qualsiasi cosa Sto morendo Potrebbero distruggere Probabilmente sono queste delle bombe invincibili D'altro che armature È bellissima Non avrei potuto chiedere una corona Per oro Oh povera Ha rovinato la frada Ha rovinato la frada Comunque Dicevo per essere così bello Mancano due oggetti Il primo è la mia armatura E il secondo Come potete vedere È il letto di ferie Oh mio dio Pure un letto personalizzato Perché tutti noi sappiamo quanto dorme Quindi ho pensato di farle un letto personalizzato Quindi Provate a rinnovinare nei commenti Che cosa fanno questi due oggetti E vi li mostriamo nel prossimo video Come prima cosa in assoluto Quindi Cosa faremo Faremo un video dove mettiamo alla prova davvero Tutti i nostri oggetti Capitan Jeff E signor Maglielino Mettiamo alla prova tutto realmente In un vero mondo Con delle vere prove E allo stesso tempo vi mostriamo L'effetto del letto E l'effetto della mia armatura Ma io sono curiosa Non posso aspettare così tanto Stef Mi dispiace Sei cattivo Lo so Perché la mia armatura è della mia cattiveria